Il telefonino è protagonista nella vita degli adolescenti, ma è sempre più diffuso anche tra i bambini. Quasi la metà di loro ha avuto il primo telefonino entro i 9 anni ed un bambino su 4 lo usa per collegarsi ad internet. Il 64% dei bambini usa il computer tutti i giorni fino a 2 ore al giorno. Il 60,6% degli adolescenti naviga fino a 2 ore al giorno e 1 su 10 ci passa più di 4 ore. Io conosco persone che passano le loro giornate su Facebook solo per sapere quello lì, che cosa ha fatto l'altro ieri, quell'altro, che foto del profilo ha messo, perché ha messo quella foto. Staccarsi dal computer risulta sempre più difficile. Ma cosa incontrano nella rete? Un terzo dichiara di aver navigato in siti pornografici, su siti che incitano alla violenza o al razzismo, e in percentuali più basse su siti che esaltano l'anoressia o il suicidio. Quanto e come i genitori interagiscono con le nuove tecnologie? Un bambino su quattro ha un computer privato cui non hanno accesso i genitori. Spesso il genitore non conosce neanche le password dei figli più piccoli.